edipuzzle è un'applicazione molto semplice da usare e molto utile si va sul browser si scrive edipuzzle.com che è proprio il sito corretto e si entra nella home page ovviamente la prima volta bisognerà accedere e fare una sorta di iscrizione che però è molto semplice perché perché una volta che gli abbiamo detto che siamo un insegnante quando ci appare questa finestra è sufficiente cliccare qui sotto cioè non è necessario mettere un email inventare una password perché perché questa applicazione è stata strutturata per poter lavorare all'interno della piattaforma di g suite quindi noi clicchiamo su questa finestra ed ecco qua il sistema riconosce i nostri account google ovviamente li riconosce tutti ma quello che ci interessa è che riconosce quello istituzionale e noi questo dobbiamo ovviamente scegliere ci viene chiesto di identificare la nostra scuola basta scrivere ICS Fabrizio De Andrè e il sistema automaticamente riconosce il nostro account istituzionale e ci fa entrare all'interno del sito infatti se voi cliccate su la mia scuola compare proprio ICS Fabrizio De Andrè bene adesso siamo nella sezione dei contenuti perché vogliamo capire come funziona quali sono le potenzialità di questa applicazione benissimo si lavora sui video quindi io posso prendere un video e anziché darlo ai miei studenti semplicemente per che loro lo guardino posso trasformare questo video in un compito da eseguire o anche semplicemente dare loro un momento di riflessione che io poi posso utilizzare in classe in mille modi diversi io posso scegliere un video che ho già preparato per conto mio e che si trova quindi già salvato sul mio computer oppure posso andare alla ricerca di video che trovo nella rete internet una cosa interessante di questo sito è che qui a sinistra ci viene dato un elenco di di siti dove andare a reperire video va bene c'è il solito youtube d'accordo vedete che c'è la scritta è di puzzle che cosa significa significa che io posso anche visionare video che altri docenti hanno preparato e questo è comodo perché chiaramente questi saranno video che hanno già un taglio di tipo didattico e poi ci sono canali importanti e anche molto seri come national geographic oppure ted talks diciamo che io voglio preparare una un compito sui vulcani e quindi sceglierò di prendere un filmato da national geographic ho scritto vulcani nella barra di ricerca e ovviamente mi è comparso tutto un elenco di di video scelgo questo perché mi sembra il più interessante non è molto lungo quindi non faccio altro che fregare e cliccare bene adesso posso lavorare con il mio video intanto faccio notare che questo video è stato preso da youtube ma è un video realizzato da national geographic quindi mi dà un pochino più di certezza della serietà di ciò che viene detto cosa posso fare con questo video beh la prima cosa che voglio farvi vedere è la modifica del video clicco su modificare e mi compaiono tre possibilità vi dico subito che voce fuori da la possibilità di registrare il mio audio sopra un video preso da un'altra parte ma non funziona per i video presi da youtube quindi questo poi vi farò vedere la scritta che che compare fuori ma questa non è una possibilità contemplata per youtube partiamo però da tagliare che è la cosa che forse ci interessa di più a volte noi troviamo dei video che sono troppo lunghi oppure che contengono parti che sono troppo difficili o che riguardano argomenti che noi non abbiamo ancora spiegato e che non vogliamo anticipare in questo modo io molto con molta molta semplicità posso tagliare le parti del video che non mi interessano vediamo come è possibile farlo per prima cosa devo far partire il video dopo aver selezionato appunto la sezione tagliare faccio partire guardo e decido qual è la parte che voglio togliere ecco la prima parte non mi interessa quindi cercherò il punto esatto in cui voglio far terminare il taglio clicco aggiungi taglio sposto vedete che compare il cestino ed ecco che quel pezzettino lì è stato tagliato posso ridurre anche la parte finale perché il video è troppo lungo e quindi non mi interessa voglio farlo finire dopo l'animazione ecco fatto io ho conservato solo la parte in blu il mio video è tagliato la voce fuori campo vi ho già spiegato che per i video presi da youtube non è possibile utilizzarla veniamo invece adesso alla parte che tutto sommato ci interessa forse maggiormente cioè la parte delle domande e qui ho diverse possibilità vedete nella barra destra allora io faccio partire il mio video che partirà da qui arrivo nel punto in cui decido ecco questo voglio inserire una domanda a scelta multipla apro digito la mia domanda perché il vulcano esplode e poi avendo scelto la risposta multipla metterò le varie opzioni l'opzione 1 perché bla 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 l'opzione 2 perché bla 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 poi ovviamente io posso anche aggiungere tutte le opzioni che voglio dopo averle scritte scelgo qual è la risposta giusta la fleggo in verde e faccio salva il sistema salva e mi appare una sorta di finestrella riassuntiva io vado avanti vado avanti scelgo un altro punto in cui mi interessa ecco qua inserire una domanda e questa volta metto una domanda aperta ad esempio non lo so spiega quello che succede eccetera eccetera io posso prima di salvarla anche editarla in vari modi è grassetto corsivo sottolineato posso inserire link immagini addirittura posso aggiungere un'equazione posso fare parecchie cose salvo benissimo proseguo arrivo a un certo punto e decido che adesso non voglio fare una domanda però voglio magari dar loro che ne so un suggerimento allora invece di scegliere la domanda sceglierò nota e all'interno scriverò semplicemente un suggerimento che potrebbe essere ripassa il paragrafo 2 salvo nella barra a sinistra nella colonna a sinistra io ho riassunto delle domande e delle annotazioni che ho inserito una volta che ho terminato clicco su finisci e io ho pronto il mio compito che mi ritrovo nella sezione dei contenuti ecco qua abbiamo inserito tre domande l'abbiamo ridotto di come lunghezza e lo troviamo qui bene adesso abbiamo il video dobbiamo però fare in modo di darlo ai nostri ai nostri alunni prima dobbiamo creare la classe anche qui si fa la prima volta è una procedura veramente molto molto semplice allora per prima cosa dobbiamo andare su le mie classi aggiungi nuova classe clicchiamo ed ecco qui la comodità compare già la sigla di classroom e noi abbiamo due possibilità o possiamo creare una classe nuova oppure che è la cosa che ci interessa clicchiamo su google classroom ed ecco quello che succede ci viene chiesto di confermare il nostro account noi ovviamente continuiamo a usare quello istituzionale acconsentiamo a tutto quello che dobbiamo acconsentire perché attenzione bene questa applicazione è conforme a tutte le leggi europee sulla privacy quindi è controllata e tranquilla ed ecco che cosa compare nella nostra barra di sinistra compare l'elenco delle nostre classroom dei nostri corsi o quelli che abbiamo creato noi o quelli in cui siamo stati invitati come docenti io scelgo la classe che voglio caricare in questo caso facciamo un esempio io ho scelto questa clicco su importa classi e non devo fare nient'altro mi compare la classe che ho scelto e se vado a vedere membri della classe io ho tutti i miei 22 studenti che sono esattamente gli studenti della classe che io ho su classroom facilissimo anche perché poi fatto una volta non lo devo ripetere più andiamo avanti abbiamo caricato la classe abbiamo i nostri video adesso vogliamo assegnare un compito ai nostri alunni ok io scelgo il video da mandare e poi clicco su assegnare mi si apre una finestra che mi permette di fare alcune cose importanti beh intanto posso decidere di mettere una data di scadenza giorno e ora questo è esattamente quello che succede quando noi assegniamo un compito in classroom anche lì abbiamo la possibilità di dire questo compito lo devi fare entro il tal giorno addirittura possiamo dirgli entro la tal ora ma la cosa più importante che voglio farvi vedere è questa impedisci salti impedisci salti significa che il video quando mi arriva assegnato io me lo devo vedere tutto io non posso saltare da un punto all'altro non posso abbreviare le cose poi lo vedremo allora che cosa faccio benissimo ho scelto la mia classe ho fregato impedisci salti gli ho detto pubblica su classroom anche questo è importante perché è importante perché in questo modo io non devo né creare dei link né mandare delle mail né copiare dei link in classroom non devo fare nulla perché fa tutto il sistema quindi scelta la classe gli dico pubblicalo tu su classroom clicco assegna e io che cos'ho ho nella mia pagina dei compiti l'elenco dei miei alunni il video che ho che ho assegnato la data di scadenza con l'orario se l'ho messa controllo che sia attivo impedisci salti e soprattutto mi compare questa scritta di controllo diciamo così che mi dice guarda che questo compito è stato postato su classroom vediamo ora quello che succede dal punto di vista dell'alunno l'alunno riceve la notifica del compito esattamente come riceve tutte le altre come riceve le notifiche di tutti i nostri compiti che noi mettiamo che noi assegniamo attraverso classroom quindi non deve fare altro che aprire la notifica oppure andare su classroom e accedere a lavori del corso è la stessa identica cosa si ritrova in questa pagina che è identica a quella degli altri compiti non cambia assolutamente niente e cosa farà? cliccherà sul video che io ho assegnato cosa succede? succede che anche lui riceve questa scritta e anche lui non dovrà fare niente non dovrà mettere mail non dovrà mettere codici non dovrà nulla di nulla dovrà semplicemente cliccare su questo bottone e basta si trova la solita richiesta dovrà scegliere ovviamente l'account istituzionale quello della scuola e si ritrova nella pagina del compito adesso mettiamoci nei panni del nostro alunno e vediamo quello che accade ecco qua faccio partire il video siccome però non ho voglia cerco di andare avanti lavorando sulla barra ma non ci riesco vedete? non è possibile devo arrivare alla prima domanda per forza arrivata alla prima domanda il video automaticamente si fermerà e comparirà nella colonna a destra la domanda ecco qua chi erano i pirati berberi scrivo la risposta non lo so e poi la mando il video vedete? riparte riparte e si fermerà solamente quando arriverà alla domanda numero 2 e allora anche lì io dovrò rispondere e così via di domanda in domanda ma senza avere la possibilità di saltare dei pezzi questo non è veramente possibile benissimo il nostro alunno ha terminato il compito ha cliccato contrassegna come completato ripeto esattamente come fa tutte le volte e cosa succede a noi succede che nella nostra classe noi abbiamo immediatamente la possibilità di vedere chi ha fatto il compito e chi no e poi di vedere come ha fatto questo compito allora abbiamo l'elenco degli studenti cosa ha guardato per quanto tempo e quando è stato l'ultimo orario in cui ha aperto il video bene andiamo a vedere cosa succede se io clicco domande mi si apre una pagina con l'elenco delle domande vedete che sono ancora in attesa di un voto perché io non ho ancora controllato andiamo a controllare ecco qui qui c'è la domanda qui c'è il nome del mio alunno e qui c'è la sua risposta cosa posso fare io adesso? io posso lavorare qua dando un voto alla risposta del mio alunno o anche dando un commento a questa precisa risposta se clicco su commento mi si apre una finestra io posso scrivere qualche cosa e poi postare il commento e questo lavoro lo posso fare ovviamente su tutte le domande del compito volendo quindi per ogni domanda io posso assegnare un punteggio e lasciare un commento ok qui nella barra in alto c'è una sorta di riassunto per così dire queste erano tutte le domande che io ho fatto quelle che vengono colorate sono le domande a cui l'alunno ha risposto alla fine di questo lavoro io nella mia pagina della classe ho l'elenco degli studenti chi ha guardato il compito chi ha guardato il video e chi no la barra verde significa che il video è stato guardato tutto e quindi a tutte le domande è stata data una risposta perché noi sappiamo che se non rispondo alla domanda non posso andare avanti a guardare il video se c'è il rosso significa che il lavoro non è stato fatto e poi qui vedo una barra gialla significa che questo alunno ha semplicemente interrotto il compito non è che deve farlo tutto in una volta anzi io posso a un certo punto fermarmi e proseguire in un altro momento infatti l'alunno non ha consegnato il compito ha semplicemente cominciato a eseguire il compito è arrivato verso la metà e poi può andare avanti in un altro momento quindi lo strumento è semplice occorre fare qualche passaggio solo la prima volta che si accede ma soprattutto io lo posso utilizzare sia per fare un lavoro magari un pochino preciso se voglio fare non so se posso dare un compito di comprensione di riflessione eccetera ma io posso anche semplicemente utilizzare questa modalità dando delle domande suscitando delle riflessioni ma non necessariamente io devo correggere tutte le domande posso semplicemente leggerle e poi utilizzare le risposte dei ragazzi per fare una lezione in classe di discussione su un certo tema su un certo argomento quindi sta poi a me stabilire quello che io voglio fare con le loro risposte posso anche utilizzare le domande semplicemente per controllare che loro abbiano visto il video fino alla fine quindi non è un lavoro in più che io mi ritrovo a dover fare correggere tante domande cose di questo genere è semplicemente uno strumento che io posso anche utilizzare solo qualche volta ad esempio laddove io ho il dubbio che i video che io do non vengono guardati quindi è uno strumento molto flessibile che mi dà veramente tante possibilità di utilizzo spero di esservi stata utile alla prossima e buon lavoro